Grazie a tutti. La missione di Quartelli è proprio quella, di dare a più persone possibili giornate in cui si sente proprio bene e riesce fuori la versione migliore del nostro yoga. Le mie capacità sono riuscite a raggiungere anche gli obiettivi. Poi troppo ci troviamo in una società oggi più che mai in cui tante persone non hanno questa forza. Quartelli è venuto appunto per questo, cioè il via di dare un punto concreto a delle realtà imprenditoriali che necessitassero del nostro sostegno. ...mire le forze per creare un impatto positivo nella società. Ad oggi diciamo ognuno di noi... La persona che vince e diventa ambasso del pantone è... Nicolò Mazzon Grazie mille a tutti e a tutti.